Allora, God Save the Wine numero 8, anche se ci avviciniamo all'estate è sempre tempo dei grandi classici del vino toscano. Qui siamo a Castello di Romitorio, l'azienda che era già piuttosto famosa, chiaramente l'azienda di Sandrochia, quindi l'arte, l'arte moderna e il classico del Sangiovese, il grande premio come vino migliore al mondo alla fiera a Londra e quindi c'è sempre un motivo in più per bere Sangiovese e Brunello in particolare. Sì, il premio è stato una cosa importante, c'è stato questo bel riconoscimento a Londra, ma la cosa più importante è che si torna a parlare del Brunello di Montalcino, dopo questi anni difficili, l'annata è un pochino così e poi tutte le polemiche. Qui avete parlato l'annata 2006, l'annata? Siete contenti? L'annata buona? No, l'annata è stata riconosciuta dal consorzio con le 5 stelle, quindi un'annata notevole e secondo me, personalmente, che darà grandi soddisfazioni. Voi dove siete a Montalcino, preciso? A Castello Romitorio, questa bellissima fortezza, nella parte nord-ovest di Montalcino, però poi abbiamo anche un'altra porzione nella parte sud-destra, nel comune di Castelnuovo della Bate. Quindi è con Brunello di Montalcino, insomma, da colore piuttosto classico, dal, diciamo, affinato in barrique, giusto? Noi di solito usiamo un'elevazione in Tornot di Rover francese e poi Slavonia di 60 ettolitri. Quindi, puntiamo, secondo me, il vino rappresenta un po', insomma, quello che è la nostra filosofia dell'arte del vino, su vini molto piacevoli, di grande gustosità, ma soprattutto in eleganza, quello che ci interessa, insomma. Molti pensano al Brunello come un vino, appunto, impetuoso, con grandi profumi, in realtà assolutamente no. È un vino che aspetta nel bicchiere, che viene fuori piano piano, che conquista. In particolare questo si sente, diciamo, al 2006, quindi è una note piuttosto ricche, ha un bel frutto in evidenza. E, ecco, in bocca si sente ovviamente la struttura del Brunello, che non esagera mai, perché rimane comunque, al solito, l'eleganza, al naso si riesce, in bocca spesso si esagera, e invece qui sembra che sia riuscito, diciamo. Per raccontare il San Giovese a Montalcino è la freschezza, insomma, questa bella città, che poi negli anni sarà sempre viva e questo rende questi vini sempre così affascinati, insomma. Non un vino duro, austero, ma un vino di grande piacevolezza, insomma. E spesso il Brunello a volte spaventa per questo, invece non dobbiamo avere questa paura, perlomeno a Castello di Romitorio. No, una bella Fiorentina ci va sempre bene, però, insomma, è anche un vino per le donne, insomma. Grazie.